Ok, andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Alla rotatoria prendere la prima uscita Uscire adesso Grazie a tutti Alla rotatoria prendere la prima uscita Uscire adesso Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria prendere la prima uscita 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 Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Alla rotatoria prendere la prima uscita Tenersi a destra E poi voltare a destra Voltare a destra Alla rotatoria prendere la prima uscita Alla rotatoria prendere la prima uscita Alla rotatoria prendere la prima uscita Andare dritto. 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 Andare dritto.